buongiorno la parola di gesù è quasi sempre una parola che sconvolge i nostri schemi mentali che capovolge le nostre aspettative che scardina i luoghi comuni soprattutto in tema di religione di fede di rapporto con il signore o anche dovremmo dire con un linguaggio contemporaneo per quanto riguarda quello che significa comportarsi bene questa volta il capitolo 11 di Matteo dal versetto 20 al 24 mostra il maestro che invece nel vero senso della parola verso città come Corazin, Bethsaida e Cafarnao che sono al centro della Galilea lungo la riva del lago di Tiberiade e appartengono alla zona del popolo di Israele sono insomma cittadine dove gli ebrei praticano la propria religiosità dove esiste la sinagoga e l'annuncio della sacra scrittura è portato avanti dai rabbini e si cerca di vivere di conseguenza le tradizioni israelitiche ebbene Gesù dice che proprio queste città non troveranno privilegi nel momento del giudizio finale nell'incontro definitivo con Dio perché i prodigi che gli ha compiuto non hanno permesso ai cittadini di riconoscerlo come figlio di Dio e Messia atteso. Il monito diventa ancora più forte tenendo conto che Gesù pone in contraposizione come modello due città pagane come Tiro e Sidone e addirittura il simbolo della città peccaminosa che è Sodoma. Ciò che per Gesù diventa importante non è tanto mettere in evidenza che chi è fuori dal popolo di Israele è meglio di chi sta dentro. A dirla con il linguaggio di oggi non è che le persone che non vengono in chiesa o che non sono cattoliche sono necessariamente migliori dei cattolici tantomeno naturalmente il contrario non significa il fatto di essere battezzati e cristiani che noi o qualcuno di noi sia migliore degli altri. Il punto centrale ciò che fa la differenza è la disponibilità alla conversione, l'apertura a riconoscere l'azione di Dio che chiede di cambiare la propria esistenza, l'azione di una parola efficace che permette a ciascuno che desidera essere secondo il cuore di Dio una trasformazione radicale. Cristiano o non cristiano ciò che è importante è mettersi con disponibilità e docilità davanti all'agire del Signore perché gli possa scardinare in noi delle resistenze, dell'egoismo, della superbia, dell'orgoglio e avviarci in un cammino di umiltà che porti ciascuno a lasciarsi amare veramente e a diventare strumento di amore per i fratelli. Che sia a Tiro, a Sidone o che sia a Cafarnao o a Bezzaida l'importante è che ognuno di noi si lasci amare per imparare ad amare come Gesù. Buona giornata.